E' vero che l'Avellino è ancora impegnato nella Puls Cudetto, ma è anche vero che bisogna lavorare per il prossimo anno per la costruzione del nuovo organico. Tra i riconfermati ci saranno di sicuro anche Kelvin Matute e Capitan Santiago Morero. I due giocatori assistiti da Augusto Carpeggiani sono pronti a continuare la loro avventura all'ombra del Partenio. Elementi fondamentali per le loro qualità tecniche, ma anche per la grande esperienza nei campionati professionistici. Probabile che le parti si incontreranno dopo gli spareggi per il tricolore. Per quanto riguarda le operazioni in entrata, in porta si continua ad attenzionare Dini, attualmente in forza al Trapani e di proprietà del Parma. Mentre si continuano a monitorare Bernardotto e Quadrana della Nusei, con cui restano fitti i contatti con i due agenti Claudio Laganà e Giuseppe Franco. Nelle ultime ore, per il reparto offensivo, è spuntato anche il nome di Brunori Sandri, italo-brasiliano dell'Arezzo, ma di proprietà del Parma. Passi 1994, 13 gol quest'anno e con un passato a Foligno e Reggiana.